Il Veneto impugna davanti alla consulta il decreto del governo su obbligo vaccinale. Paura in giardino per un traliccio dell'alta tensione a rischio l'incolumità di due pensionati. Dopo anni di battaglie da oggi ricariche gratis per le carrozzine e gli scooter a mestre. La Reier Venezia si impone in gara 2 e si porta in parità nella sfida Scudetto con Trento. Telespettatori di Rete Veneta ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca dalla provincia di Venezia. Lo avete sentito in apertura, ci occupiamo di quel che è successo questa mattina in Regione dove il governatore Luca Zai ha annunciato che la Regione Veneto impugnerà il decreto che impone l'obbligo di 12 vaccini per tutti i bambini. I dettagli allora nel servizio d'apertura della nostra redazione veneziana. La Regione Veneto impugnerà davanti alla Corte Costituzionale il decreto del governo sull'obbligo vaccinale. Lo facciamo non perché siamo contro il vaccino ma lo facciamo perché siamo contro alcune misure che questo impone a parte la lesa autonomia di una regione come il Veneto che sui vaccini può far scuola e dall'altro il fatto che ci siano delle misure coercitive che addirittura prevedono le multe fino a 7.500 euro per i genitori che non vaccinano. Il che vuol dire che se hai i soldi non puoi vaccinare e se non ce li hai devi vaccinare a tuo figlio. Mi sembra un'assurdità. Il Veneto non ha l'obbligo di vaccinare, ricorda Zaia, così come 15 paesi europei importanti dalla Germania alla Spagna, dal Regno Unito ai paesi del Nord Europa. La nostra regione è l'unica ad avere un'anagrafe vaccinale digitale e ha dimostrato con la sua performance del 92,6% che non è l'obbligo a risolvere il problema. Ci vuole il dialogo, siamo nell'era della conoscenza e quindi all'obbligo dobbiamo rispondere invece con il dialogo. Il dialogo che ci deve permettere ad esempio di fare dei programmi vaccinali ad hoc, caso per caso, di interloquire con i genitori, di dare risposte da un punto di vista scientifico ai genitori che fanno domande, non sicuramente rispondere con il giudice o con il magistrato. E proprio di questo tema si occupa il Tg Linea Aperta. Di questa sera vi chiediamo, come sempre, di esprimere la vostra opinione sul tema vaccini il Veneto contro l'obbligo. I numeri li conoscete, sms al 340-3218-770 e le email a venezia.it, vaccini il Veneto contro l'obbligo. Il tema del nostro Tg Linea Aperta. Parliamo ora di una vicenda curiosa che avviene a Chirignago, dove due pensionati temono per la loro incolumità. Nel loro giardino c'è infatti un traliccio dell'alta tensione. Sentiamo cosa succede. Il traliccio dell'alta tensione svetta proprio accanto a casa, qui in via Caburlotta, a Chirignago. Ma il pericolo per una colpa di pensionati non arriva dalla paura elettrosmog, racconta la stessa interessata. Io ho sentito un forte colpo. Pensando che fosse caduto qualcosa, ho mandato mio marito a vedere e ci siamo trovati con miliardi di pezzi di vetro per terra. Il terrore che possa ripetersi quanto già accaduto e cioè che possono nuovamente rompersi gli isolatori in vetro con i frammenti di scheggi di cristallo che hanno invaso tutto, giardino, roticello e pure casa. Io poi, che ho un 99% di invalidità, non è che mi possa, mai mi riuscisse, mi mettessi a correre perché sento che se rompe qualcosa sulla mia testa, capirai se posso correre. Sono qua. Il fatto a luglio scorso, da allora, nonostante i due posti in procura, nessuno ha dato aiuto alla colpa di anziani che ora chiede un intervento della nostra emittente e noi chiederemo spiegazioni all'operatore di rete. Una protezione, fra l'altro poi, questo nel tempo pende sulla mia casa e si vede bene che questo qua pende sulla mia casa. Non che debba cadere, per carità, Gesù dal 31, dovrebbe stare ancora su, però, se sa mai, pende verso casa e quello che si è rotto è cascato dentro da me. Ed ora una buona notizia perché a Mestre arrivano le colonnine per la ricarica delle carrozzine per i disabili. Hanno dato i loro frutti le battaglie condotte negli ultimi anni dallo sportello handicap per agevolare anziani e disabili. A Mestre ora è attivo il servizio gratuito per poter ricaricare carrozzine e scooter elettrici. È stato inaugurato alla presenza del sindaco Brugnaro. Sì, adesso dobbiamo monitorare che funzioni tutto e poi se funziona, la estediamo anche le altre aree lì. Finalmente oggi si è inaugurata una cosa che adesso porta a un grosso salto di qualità e di libertà per il disabile. Il servizio è disponibile in nove punti di ricarica localizzati presso le ciclostazioni di bike sharing. Per poterlo utilizzare basta possedere la tessera Venezia Unica e presentare una richiesta tramite l'apposito modulo. È un'attività sperimentale, speriamo che abbia successo, stiamo lavorando per inserire altri punti come questo. Ritengo che sia una cosa importante per la città perché la città deve continuare ad avere delle cose in più e non cose in meno. E proprio per questo la collaborazione continuerà. Saremmo sempre in contatto con l'amministrazione come sportello handicap CGL per poter estendere questa iniziativa sia al Lido che verso l'ospedale All'Angelo per poter concedere ai disabili la possibilità di ricaricarsi. Siamo allo sport, rialza la testa la Reier trascinata da Marquez, Aines monumentale nella seconda parte mentre Buscaglia si preoccupa per l'infortunio che a metà del secondo quarto lo priva di Sutton giocando ogni 48 ore brutta tegola e fa festa anche Giotta Coppina, presidente del Venezia seduto nel parterre. Altra Reier, altra prestazione, la finale ritorna in parità, si gioca di nuovo domani sera. Noi ora parliamo di ginnastica artistica e lo facciamo andando a piove di sacco. Ci siamo incontrati per caso, è nata una collaborazione che secondo me darà grandi frutti loro sono i numeri uno nella zona e noi siamo qui per dare questa opportunità alle famiglie, ai ragazzi e agli insegnanti. Un matrimonio celebrato davanti a centinaia di testimoni al Palasport di Sant'Anna di Piove di Sacco quello tra la società Sport System e la società Corpo Libero di Padova che milita in Serie A1. L'obiettivo è quello di crescere anche dal punto di vista numerico della formazione e dare proprio un'opportunità ai ragazzi anche qui di piove di sacco. Un pomeriggio di ginnastica artistica che ha visto le esibizioni di squadra degli atleti della Sport System dai 5 ai 15 anni e quattro esibizioni individuali degli atleti della Corpo Libero Gymnastic Team di Padova. La ginnastica artistica è uno sport in ascesa che conta un numero crescente di partecipanti. Attualmente con noi ci sono 200 ragazzi per cui il numero non è proprio piccolo ma insomma vogliamo fare qualcosa di più. Un pomeriggio di sport al quale hanno portato il loro contributo atleti che militano nella massima serie. Perché è un bellissimo sport, poi io lo pratico da quando ero bambina. Ginnastica artistica è uno sport completo, si usano sempre e costantemente tutti i muscoli di tutto il corpo. Siamo in chiusura di questa edizione. Grazie per l'attenzione e vi ricordo solo l'appuntamento con la programmazione questa sera come sempre Focus Tg. Focus l'approfondimento dei nostri notiziari a partire dalle 21.20. Ospiti Jacopo Berti, Pietrangelo Pettenò, Sergio Berlato, Diego Cancian, Alberto Montagnier e Loris Mazzone. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente. Previsioni per domani. In pianura, in prevalenza poco nuvoloso, a tratti parzialmente nuvoloso al mattino, specie sulle zone più interne. Sulle zone montane e pedemontane, condizioni di instabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti. Probabili rovesci e temporali già nel corso della mattinata su zone montane e pedemontane. Non esclusi i fenomeni anche in pianura. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali in quota, brezze nelle valli. In pianura, deboli moderati dai quadranti orientali.